Se avete sempre desiderato di registrare la vostra musica, siete nel posto giusto. Questo è il primo video di un corso completo base dedicato a Cubase, che vi guiderà dalla prima apertura del programma fino alla registrazione. Come detto è un corso completo, quindi qui sotto in descrizione trovate il link alla playlist di tutte le puntate del corso. Iniziamo! Questa sarà la prima schermata che vedrete all'apertura di Cubase. Si chiama Steinberg Hub ed è una sorta di raccoglitore di news e tutorial creati da Steinberg, che è la casa produttrice di Cubase sulla sinistra, a cui si accede con una connessione a internet, mentre sulla destra troviamo la sezione dedicata ai progetti, che è molto importante perché sarà il primo punto fondamentale di creazione del nostro progetto. Qui infatti andiamo a definire o a scegliere uno dei template preesistenti, quindi uno dei modi per creare un progetto con delle tipologie di tracce già create, oppure creare un progetto vuoto e andare a decidere dove salvarlo, che è la prima impostazione fondamentale. Cubase creerà una cartella per ogni progetto che voi create e in questa cartella sarà contenuto il file di salvataggio del vostro progetto e una sottocartella chiamata audio, dove andranno a finire tutte le registrazioni del vostro progetto. Ricordate che ogni registrazione che farete sarà equivalente ad un file audio in quella cartella. Andiamo per esempio a cliccare su specifica alta posizione, perché non voglio creare un progetto nella posizione predefinita, che sarebbe documenti Cubase Project, ma appunto vado a decidere io dove salvare il mio progetto, quindi clicco su specifica alta posizione e qui sceglierete voi dove sia meglio salvare il vostro progetto. Io per esempio ho creato una cartella chiamata Corso Cubase e lo salvo qui dentro. Finalmente abbiamo aperto Cubase. Le cose che vedremo oggi sono le impostazioni importanti da fare all'apertura del software, quindi capire cosa impostare per iniziare a lavorare. Innanzitutto dobbiamo andare su Studio e poi su Configurazione dello studio. In questa finestra quindi selezioniamo VST Audio System ed è qui che accediamo a una delle impostazioni più importanti del vostro programma, se non la più importante, soprattutto quando lo state aprendo per la prima volta, cioè settare il giusto driver ASIO. Il driver ASIO è il vostro driver audio, cioè quello che gestirà tutto quello che farete all'interno di Cubase. Qui dovete selezionare il driver della vostra scheda audio, quindi troverete sicuramente un nome che vi ricorderà la vostra interfaccia audio. Credo che voi abbiate già una scheda audio esterna, nel caso non l'aveste ve la raccomando molto, perché con le schede audio interne è possibile fare qualcosa, ma chiaramente si hanno molti limiti che nel giro di poco tempo verranno fuori e sicuramente non vi permetteranno di andare molto avanti. Quindi se non l'avete già fatto, acquistate anche economica per iniziare, una scheda audio esterna e qui selezionate un driver dove al 90% ci sarà scritto il nome della vostra scheda. È quello che dovrà essere selezionato. Vi consiglio anche di attivare, su precisione del processamento, 64 bit. Quando ora fosse a 32, il programma vi chiederà di riavviarlo. Questa cosa è importante per poter avere, diciamo, un'ottimizzazione del processamento, appunto. Non entro nel dettaglio, io vi dico solo che se avete un computer, diciamo, a partire da 3-4 anni a questa parte, potete farlo. Se avete un computer più vecchiotto, forse è meglio restare su 32, perché chiaramente ci sarà un piccolo incremento di utilizzo della CPU con questo settaggio e quindi sul computer un po' più vecchio è il caso di restare a 32. Comunque nulla che vada a creare un impedimento per fare altro, quindi 32 o 64 in base, diciamo, all'età del vostro computer. Tutti gli altri settaggi potete lasciarli tranquillamente di default e ci spostiamo sulla scheda ASIO Hammerfall DSP. Questo nel mio caso. Nel vostro caso ci sarà scritto il nome del driver che avete selezionato qui. Questa scheda è molto importante perché ci permette di parlare del buffer size o, meglio conosciuto, come latenza. Il buffer size non è esattamente latenza, ma semplifichiamolo e associamolo esattamente alla latenza. Cliccando su pannello di controllo si aprirà il pannello della vostra scheda. Chiaramente, molto probabilmente sarà diverso dalla mia se non avete una scheda come la mia, ma la cosa che dovrete andare a controllare sarà proprio buffer size. Allora, per avere un ascolto in tempo reale dal computer senza latenza è necessario avere dei valori bassi. Io consiglio massimo di spingersi fino a 128 che è già un limite un po' ballerino per la latenza. L'ideale sarebbe 64. Ma chiaramente quando il valore del buffer size è molto basso riduciamo da latenza e quindi ascoltiamo sempre più in tempo reale quello che facciamo, ma al tempo stesso andiamo a pesare di più sulla CPU. Quindi è importante che, per esempio, voi quando registrate avete un valore molto basso di buffer size per permettere di avere un monitoring in tempo reale. Quando invece, per esempio, andate a mettere degli effetti, a fare i vostri primi messaggi al computer, andate ad alzarlo perché quando il buffer size è più alto ci sarà più latenza, ma non vi interesserà più perché non starete registrando in tempo reale, ma si ridurrà molto il carico sul computer, sulla CPU, e quindi il computer lavorerà più agevolmente. Fatto questo, avete già realizzato una delle impostazioni più importanti del programma. Vi spostate poi su MIDI, configurazione delle porti MIDI, e se avete collegate delle tastiere USB MIDI o delle tastiere MIDI alla vostra scheda audio sull'ingresso MIDI, andate a controllare che il relativo ingresso MIDI sia disponibile. Questo chiaramente per permettervi di utilizzarla poi all'interno del progetto. Cliccate OK e quindi usciamo da questa schermata. Adesso andiamo a controllare le connessioni audio. Possiamo andarci cliccando F4 sulla tastiera oppure cliccando su Studio, connessioni audio. Qui abbiamo tutto, diciamo, il cuore della nostra macchina, quindi a seconda della scheda audio che avrete troverete in ingressi e uscite i canali appunto della vostra scheda. Qualora non ci fossero, vi basterà cliccare su Aggiungi bus, cliccherete molto probabilmente su Mono, darete un nome a questo bus, per esempio Input 1. Io in questo momento ce l'ho in basso perché ho molti input su questa scheda. E qui sulla destra andrete a selezionare la porta della vostra periferica. Cosa vuol dire? Andrete a selezionare quell'input a quale ingresso specifico della vostra scheda corrisponderà. Stessa cosa su uscite, dove dovrete andare a selezionare come uscita principale in stereo la vostra uscita principale, solitamente l'output 1 e 2 della vostra scheda che avrete collegato ai vostri monitor. Nel mio caso c'è scritto non collegato perché utilizzo la control room. Cosa è la control room? È una gestione un po' più avanzata di tutto il routing dedicato a Cubase che vedremo sicuramente in un altro corso. Per adesso vi basta selezionare output 1 e 2 nella grande maggioranza dei casi per poter subito iniziare ad ascoltare quello che farete su Cubase. Adesso ci occupiamo di un settaggio fondamentale su Cubase che dobbiamo andare ad impostare all'inizio perché se lo faremo dopo aver già registrato qualcosa ci darà parecchi problemi. Clicchiamo su progetto e su configurazione del progetto oppure come vedete cliccando shift più s sulla tastiera. Vado a fare shift più s ed ecco che si apre il pannello dedicato alla configurazione del progetto. Qui potete lasciare tutto com'è di default per adesso. La cosa importante è che andate a vedere questa parte della finestra formato del file di registrazione. In questa sezione andiamo a definire la qualità tra virgolette della nostra registrazione. Chiaramente non va intesa in senso assoluto. Pensate che per anni per tantissimi anni abbiamo ascoltato la musica a una frequenza di campionamento di 44 e 100 e non di 48. Come vedete io posso arrivare fino a 192 ma ricordate che questo sia l'aumentare della frequenza di campionamento avrete più qualità senza scendere in dettaglio. Ma probabilmente all'inizio non ci farete molto caso a questa differenza e in ogni caso ricordate che più alzerete la frequenza di campionamento più i file peseranno molto sul computer. Quindi anche in base alla dimensione del vostro hard disk è necessario scegliere la frequenza giusta. Per me 44 e 100 o 48 sono due settaggi assolutamente utilizzabili e assolutamente negli standard moderni di qualsiasi applicazione pensate che molti servizi di streaming lavorano ancora a 44 e 100 nonostante diciamo ormai lo standard web sia a 48.000 quindi o 44 o 48 a vostra scelta risoluzione in bit però cliccate su 24 bit assolutamente tipo di file lasciate wave facendo questo avrete quindi impostato questa cosa e mi raccomando fatelo all'inizio del progetto perciò questa informazione ve l'ho messa in questa prima puntata perché è molto molto importante che sia fatta all'inizio e non dopo. Bene in questo primo video abbiamo visto davvero la fase preliminare di creazione di un progetto e di impostazione audio cose comunque molto importanti per iniziare ad approcciarvi a questo software. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like qui sotto ed iscrivetevi al canale attivando anche la campanella per restare sempre aggiornati e vi ricordo di nuovo che essendo questo un corso base ma completo su Cubase trovate qui sotto in descrizione il link alla playlist dove potete accedere a tutto il resto del corso. Io vi ringrazio video appuntamento alla prossima puntata e vi ringrazio